Diverse culture del mondo si sono ritrovati in festa a tricarico per il dodicesimo raduno internazionale delle maschere antropologiche. 16 gruppi provenienti da vari comuni italiani anche d'oltre Alpe per un evento che continua a crescere ed attirare sempre più turisti. Il paese di Rocco Scotellaro si colora di storia, tradizioni e riti al ritmo dei campanacci che adornano gli abiti tradizionali. L'evento rappresenta un'occasione unica per scoprire la storia e la bellezza delle maschere antropologiche provenienti da diversi parti del mondo che si filano in corteo partendo dalla Torre Normanna, torre che costituiva il cosiddetto maschio del castello del quale faceva parte, percorrendo le vie del centro storico per giungere al centro del paese regalando uno spettacolo unico e coloratissimo agli occhi dei visitatori. Il raduno internazionale delle maschere antropologiche di tricarico rappresenta una celebrazione della cultura locale e offre un'occasione per diffondere la consapevolezza dell'importanza della preservazione delle tradizioni popolari, ha affermato il presidente della Proloco di Tricarico, Francesco Sant'Angelo, organizzatore della manifestazione. Siamo felici di poter ospitare numerosi gruppi di maschere provenienti da diversi parti del mondo, ha aggiunto il presidente che si è detto soddisfatto dell'ampia partecipazione di questa edizione che ha visto oltre 10.000 persone nei due giorni di eventi ed auspica una sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso un evento che può davvero diventare di respiro internazionale. A chiudere il corteo sono state le maschere di tricarico, maschere in dialetto locale, che personificano il toro e la mucca. Un cappello a falda larga coperto da un fulare e da un velo, entrambi bianchi, decorato con lunghi nastri multicolori che scendono lungo le caviglie per la mucca. Un copricapo nero addobbato da lunghi nastri rossi per il toro. Tanti anche i bambini che hanno preso parte alla sfilata.